Hanno fatto il giro del mondo le foto di questo uccellino in Canada rimasto intrappolato in una mascherina chirurgica fino a rimanerne soffocato. Immagini che ne richiamano un'altra vincitrice qualche anno fa di un premio internazionale, fotosimbolo di una natura ingannata dal nostro usaigetta. Ogni epoca la sua spazzatura è così, dopo cotton fiocca e plastica, nel Mediterraneo gettiamo l'equivalente di 33.000 bottigliette ogni minuto, ora ecco le mascherine anti-coronavirus. Solo 4 grammi di plastica e tessuti artificiali, ma moltiplicati per i miliardi di pezzi usati al mondo, fa una montagna di rifiuti. Per le sole aziende italiane se ne prevede l'uso di una mole enorme ogni mese. Il Politecnico di Torino stima che solo in Italia avremo bisogno di un miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti. Se supponiamo che anche solo l'1% di questo enorme quantitativo finisca in natura, si tratta di 30-40 tonnellate che vanno ad aggiungersi al grave problema della plastica nel mare nostrum. È recentissimo un lavoro uscito su Science che dice come nel Marti e Reno siano presenti concentrazioni di microfibre di plastica le più alte mai registrate al mondo, quindi anche nel nostro ambiente. Quasi 2 milioni di frammenti per metro quadrato fra Toscana, Lazio, Sardegna e Corsica per il gruppo di ricerca anglo-francese, plastica mortale per tartarughe, pesci e uccelli. E ci sono altri veleni con cui stiamo soffocando l'ambiente a causa di Covid-19, come l'ipoclorito di sodio, componente della candeggina, usato per sanificare a pioggia persino spiagge e spazi aperti. Nonostante ISPRA, Istituto di Sanità e ora anche OMS ne sconsiglino la pratica inefficace contro il coronavirus, ma sicuramente dannosa per il sistema respiratorio e le falde acquifere. Questa sostanza infatti a contatto con altre sostanze organiche presenti nell'ambiente può dare origine a dei composti volatili molto tossici come le cloramine o trialometani, ma soprattutto quando viene utilizzata su una spiaggia, può alterare il delicatissimo equilibrio di quest'ecosistema avendo impatti molto seri sulla biodiversità. Un pericolo ad esempio per il fratino, piccolo trampoliere fragile e protetto che ne edifica proprio da marzo a luglio lungo le nostre spiagge, sanificate in questi giorni in vista delle vacanze.